Ehi, fermi tutti! Qui dicono che si può andare a pescare anche in zona rossa, hanno cambiato di nuovo idea! Dove vuoi e come vuoi? No, pare che si possa pescare solo nel proprio comune. Sì, ma state calmi, che tanto hanno già detto che i vigili stanno facendo comunque le multe perché non hanno recepito quello che le facche hanno cambiato. E te pareva! E poi dove volete andare? Oggi c'è il Black Friday, dovete stare qua tutti e due con me a preparare i pacchetti. A proposito, ma che promozione ti sei inventato quest'anno che qui continuano ad arrivare ordini? Semplicissimo, se vai su tuttospinning.com, fai il tuo bel ordine e quando sei nel carrello metti il codice sconto Black Friday 2020, ci sarà poi uno sconto fisso a seconda di quanto hai speso. Se hai speso almeno 100€ riceverai un buono sconto di 20€. Se ne hai spesi 250, riceverai un buono sconto di 50€. E se ne hai spesi addirittura 500, il buono sconto arriva a 100€. Buona ma, e tu sei un genio del male! Sì, geniale per lui! Noi intanto siamo qui a farci un culo così come una capanna e a preparare i pacchetti. Ma tanto, cosa c'avete di meglio da fare? Non potete neanche andare a pescare! Non potete!